Facciamo un video un po' più breve Quindi il primo step innanzitutto è scaricare dataminer Si vuole la pagina dataminer Compare sta roba Si fa dove c'è la casetta Add to Edge Compare sta cosa Qui compare install Si installa E' buon occhio Quindi si vuole la pagina che si vuole Andare a Da cui si voglia andare a prendere i dati Nel nostro caso era 8 and tomatoes Ma si può fare su ogni tipo di pagina Io cerco il mio Ok Quindi qua c'è la pagina principale Noi dobbiamo fare Dove qua c'è il tomato meter Le reviews Ok Quindi avendo scaricato dataminer Si apre dataminer da qua sopra Qui compagno le public recipes Cioè quelle lì create già da altri utenti Spero che da qua si veda Public recipes My recipes E bin Vabbè Non abbiamo binnato niente Nel senso non abbiamo Vabbè Sapete che vuol dire Ora qui abbiamo Era quella che avevo fatto prima Tutte due funzionano Ne facciamo un'altra Dove c'è questi goncini della matita Compare questa paginetta al lato Che quindi io metterò qui E poi al lato metto questo Quindi Cosa si deve fare La prima pagina Qua dove c'è il 2 E' inutile E comunque si può C'è inutile per noi Comunque si Anzi no Questa No questa qua è inutile La pagina 3 La pagina 2 Sarebbe praticamente Come noi vogliamo Che i dati alla fine Ci vengano fuori Quindi ho una lista Con tante colonne E tante righe Oppure una unica Grande Colonna E una unica Grande riga Con tutte le informazioni In una sola riga Possono servire tutte e due Io l'ho usato tutte e due Comunque adesso Dobbiamo usare questa qua Quindi abbiamo detto La 3 E' inutile Per noi Rose E' il primo Elemento Che noi dobbiamo fare E' praticamente Dove lui deve andare a guardare In serie tutti i dati Siccome a noi interessa Che lui prenda le recensioni Nel sito Fatto così Allargando la pagina Basta Siccome lui deve guardare Tutti questi riguadri Noi dobbiamo selezionare Qualcosa qui all'interno Come facciamo? Rose Easy Row Finder Altrimenti Advanced Finder Questo qua lo utilizziamo dopo Va a guardare nel codice HTML della pagina E va a prendere Informazione direttamente da lì Easy Row Finder Lui qua dice Selezionare l'elemento Che noi vogliamo Come primo elemento E poi come secondo elemento Così che lui capisce Questo Questo e tutti gli altri Che assomiglieranno Questi due In pratica Nella pagina In cui noi stiamo Andando a Guardare Dobbiamo premere L'1 nel primo elemento E il 2 nel secondo Quindi io qui farò Siccome lui deve guardare Tutta sta storia Oggi abbiamo visto a lezione Che se noi diciamo Tutto quanto questo 1 E 2 Lui non lo capisce Come facciamo a capire Che non lo capisce Perché lui non Non dà segnali E poi qui Su conferma Non fa confermare L'unica cosa è Cancel Se noi qui non lo facciamo Colonna non lo possiamo fare Let's not have A valid row setting Quindi Quello che noi dobbiamo andare a fare Easy Row Finder E selezionare questo Perché su questo sito Funziona così Come facciamo a capire Cosa fare In base al sito Smanettando Se risulta bene Se non risulta Riproviamo Quindi questo qui 1 2 Come facciamo a capire Che ha funzionato Perché qui ci dice Che ha trovato le cose Tutto quanto è felice E soprattutto Si può fare Conferma Ma anche Lui ha capito Se noi scendiamo Nella pagina Tutte le zone Che ci interessano Sono fatte Di rosso Quindi qui al lato Gli diciamo Conferma Ok Colonne Allora le colonne Dove noi iniziamo A dargli le informazioni Che ci servono Quindi Aggiungi nuova colonna Ce ne servono di più Quindi ne facciamo Qualcuna Ora Come facciamo Modificare le colonne Quindi qui ci sono Le colonne E vabbè Troppo zoom Qui al lato C'è questa qui E noi dobbiamo dire Edit Se la vogliamo modificare Duplicate Se la vogliamo duplicare Muovi sopra e sotto In base Alla gerarchia Che vogliamo Che la tabella abbia Quindi praticamente Compaierà Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 In base all'ordine Ok Quindi Che informazioni Il professore Vuole che noi Prendiamo L'autore Della recensione Vabbè Poi il nome Lo metto dopo Facciamo conto Che Vogliamo Per ora Sapere Soltanto L'autore Easy Column Finder Come prima Lui ci dice Seleziona C Nell'elemento Che noi Cioè Seleziona L'elemento Che vuoi che noi Prendiamo Come elemento Di questa colonna O la C Quindi dobbiamo Premere C Esattamente Sul nome Dell'autore Che in questo caso Per esempio Facciamo questo qua Ok Lui Dice Ho trovato Questo qui È corretto Però non è che Prenderà Solo questo qui Noi anzitutto Diciamo di sì Conferma E poi Com'è che vediamo Se lui L'ha Tutti quanti Se qui Giustamente Tutti i nomi Degli autori Sono col blu Ok La stessa cosa Facciamo per l'altro Facciamolo con la testata Giornalistica E la data Anzi Facciamo Altanto con la testata Giornalistica Quindi qui a lato Nella colonna 2 Facciamo edit Abbiamo detto Testata Easy con un finder Torniamo qui Selezioniamo con la c La testata Può essere anche Di un'altra Lui dice che l'ha trovata Gli diciamo conferma E lui così Ha trovato Tutte le testate giornalistiche Perfetto Ora Per quanto riguarda Ho fatto qua data E poi qua Cos'era Testo Vabbè Della recensione Per quanto riguarda Lo score Abbiamo fatto un discorso Particolare oggi Perché praticamente Lo score qui Sotto modo meter Si trova Insieme Nella stessa riga Del link Per la recensione originale Non siamo riusciti A scollegare Questi due È un modo In cui si dovrebbe fare Sarebbe questo Quindi andiamo qua Quindi diciamo Per questa colonna Dello score Easy con un finder Non lo fa Quindi diciamo Advanced settings E vabbè Troppo zoom di nuovo Va bene Non so perché lo fa Ok Invece di Easy con un finder Mi diciamo Advanced settings Advanced finder E lui praticamente Mi dice Seleziona shift Sull'elemento in particolare Dell'html Che vuoi selezionare Se noi clicchiamo Qui a lato Con shift Lui ci dice Quello che trova Dal punto di vista Dell'html Che sono anche queste cose Review link Sarebbe questa zona qui Ogni volta Noi dobbiamo andare a guardare Selezionando i vari cosi Cos'è che si va A selezionare E capire Che cos'è che Ci interessa Se io faccio small Se succederà quello di prima Se io faccio sample Succedeva questo Se io faccio review link Selezionano soltanto questi Ed è quello che ci interessa Qui c'è scritto Anche questo qui Però questo qui Non è quello che ci serve Cioè nel senso Ci serve soltanto questo qua Non c'è un modo univoco Di dirgli Soltanto questa scritta Perché non ha un div a parte Diciamo io confermo lo stesso Nav È l'elemento In cui noi dobbiamo Praticamente Cioè che lui deve andare a cliccare Per andare nelle pagine successive Nel nostro caso è facile Perché noi dobbiamo fare Easy Nav Finder Dobbiamo selezionare N Dobbiamo cliccare N Sull'elemento Che lui deve cliccare Per andare nelle pagine dopo In questo caso è Next Lui dice che Ha trovato questo Se è quello che ci serve Allora noi diciamo Ok conferma Abbiamo contezza che abbia funzionato Non lo so Facendo la ricerca Se tutto funziona Allora l'abbiamo fatto bene Ok Quindi abbiamo finito Questo qua è sempre un altro modo Per trovare quello che ci serve In questo caso non ci serve Facciamo Save Vediamo un nome Qualsiasi cosa Save Una volta che abbiamo salvato la recipe Andiamo su Scrape in dataminer Si apre dataminer Quando è qui in griggetto Che è in griggetto Non è esattamente in nero È l'anteprima di quello Che ci andrà a capitare Quindi cosa succede Se noi prendiamo questi tre tasti qui Andiamo di nuovo A fare così Se io faccio un new scrape Lui mi prende soltanto Cavolo Lui mi prende soltanto la pagina Che io gli sto andando a dire Ok Che in questo caso è Queste 20 Rigger Che sono 20 recensioni per pagina Se io gli dico Scrape and append Qui sopra Lui mi trova Le pagine che gli dico io Me le aggiunge A quelle che io ho fatto Perché se io faccio un nuovo new scrape Cambiando pagina Mi sovrascrive quella di prima Faccio append E me le aggiunge Infatti Forti Ok Stiamo superando i 10 minuti Next page Automation Invece Lui va a cliccare nel next Nel sito Nel sito che vi sto andando a dire E mi va a prendere Il numero di pagine che io dico In questo caso 10 pagine E 8 secondi Vabbè praticamente Tipo Siccome alcuni siti bloccano i bot I bot cliccano Velocementissimo Non manco cliccano Voglio dire Quindi si danno questi secondi Per non farsi bloccare Da alcuni siti Che potrebbero bloccare il bot Questo comunque non ci serve Cosa bisogna fare Una volta che Si fa Automation Si fa Scrape Quindi dice 10 pagine C'è questa iconcina Così Significa che lui sta lavorando Nel frattempo si aggiungono Queste qui Quando io ho finito Devo fare sul download Lo posso fare anche adesso Però non si aggiungono i file Infatti mi pare che non sta manco girando Non sta girando Comunque Excel O CSV Vi ho detto Di preferire Excel Alla prossima Alla prossima Alla prossima